Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Swarovski Elements Flatbacks Hotfix. Hotfix design esclusivo con Swarovski Elements la scintilla luminosa di un cristallo Flatbacks Hotfix di Swarovski è stata sempre una fonte di fascino. L'applicazione è diventata adesso ancora più facile con la nuova colla dei Hotfix, che a bassa temperatura di esercizio garantisce già la massima adesione dei cristalli e nello stesso tempo rimangano inalterati anche dopo numerosi lavaggi, anche in lavatrice a 30. Spettacolare brillantezza col taglio Xilio-Rose-Enacid Xilio-Rose-Enacid è il taglio più brillante sul mercato. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie a tutti.